Buon salve pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter o What's Mystery Siamo sempre primi qua ma per stavolta ho fatto qualcosa, ho fatto 10 punti e meno di quello che dovevo fare Ma comunque è già un inizio perché tanto bisogna preparare queste lezioni, sono a 5 su 9, fatta non l'ho ancora iniziata Veramente un casino e probabilmente questa è la penultima cosa che potremmo fare sperando che sia uscito il capitolo Perché questi episodi li sto pre-registrando in anticipo di qualche giorno e quindi è un po' un casino Voi mi state chiedendo con che cosa sto registrando, vi ricordo che io registro tramite computer con l'applicazione BlueStacks Che vi lascio qua sotto in descrizione dove potete giocare a questo e a tantissimi altri fantastici giochi Praticamente tutti quelli che ci sono per Android su computer Messo in coppia con OBS che anche questo vi lascio in descrizione Quindi mi raccomando andate tutto a scaricare per poter fare anche voi i vostri gameplay O semplicemente per giocare da computer usando mouse, tastiera eccetera Ma ora bisogna andare dal barone sanguinario Ma prima, sigla! Se anche tu come me non puoi più vedere dei poveri ipogrifi incatenati Se anche tu come me non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici Allora iscriviti al canale del Pixelmatto Potrai trovare ricette, gameplay, notizie poteriane e molto altro ancora Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta! Ed eccoci qua, finalmente possiamo entrare nell'aula di pozioni Purtroppo mi sa che non faremo una lezione del genere che ci dà dei punti per l'evento Però parleremo col barone sanguinario Salve signor barone sanguinario Ma prima c'è un po' di gente che ci vuol parlare Quello di Serpeverde è il fantasma più rude di tutti E anche il più spaventoso Sì Spero che quello... Scusate Spero che quello sugli abiti del barone non sia il sangue di creature Comunque non ho il coraggio di chiederglielo Ehm... Vabbè, dai, su via Io non ho paura del barone sanguinario Non moltissima Almeno Eh, io smella cara Ma adesso noi dobbiamo parlare con il signor barone Il barone sanguinario ha un caratteraccio Sarà meglio che lasci parlare me E per quale motivo abbiamo informato Merdula che noi stiamo cercando la mappa del malandrino? Perché Merdula lo sa? Quindi, cioè, ora noi abbiamo detto tecnicamente a Merdula che vogliamo la mappa Merdula parlerà col barone che se ce l'ha poi la darà a lei E quindi noi non avremo la mappa Ne sono convinto Perché tu sei una personcina affabile e alla mano Eh? Non prendere per il culo Merdula che già pensa che la amiamo Da qualche video fa Vi ricordate ragazzi? Cioè, stiamo veramente di male in peggio Perché io, a differenza di te, non mi faccio prendere dal panico se le cose si mettono male Maledeta Merdula Sei proprio ridicola Ma, no, non Rocky, non ti devi comportare così con lei, cavolo Che poi se la ruba davvero quella cavolo di mappa Chiunque parli con lui dovrà stare attento Persino Pivi sobbedisce al barone sanguina Scusate, questo è Liz Chiunque parli con lui dovrà stare attento Persino Pivi sobbedisce al barone sanguinario Come fa a controllare Pivis? Probabilmente tra loro non corre buon sangue Forse il sangue del barone è di Pivis L'avete capita? L'ho inventata mentre venivamo qui e ho aspettato l'occasione giusta per usarla È una battuta È una battuta Eh sì, tutto muscoli e niente cervello Ovviamente Almeno credo Esatto Barnaby, non ci prova Sei un intruio confondente in carne ed ossa Non credo che abbia capito Era una bella battuta Barnaby Mi piacciono le battute sanguigne Questo dialogo Gli sviluppatori l'hanno pensato mentre stavano dormendo Vuoi che parli con il barone sanguinario o no? Gli parlerò io stesso perché sono più figo di te Ciao bella Ciao Oh bella Ciao bella Ciao bella Parlerò con il barone sanguinario io stesso Non ho paura Bravo Rocky Bravo Rocky Così mi piace Non devi avere paura E voi ragazzi Avete paura? Fatemi sapere sotto nei commenti Qual è la vostra più grande paura Che poi ne discuteremo Buona fortuna Malboa Non aspettarti che ti soccorra io se vieni Beh anche se un bacetto bocca a bocca da te Non me lo auguro Spero che non svengo assolutamente Scusi signor barone Che cosa vuoi? Volevo chiedere le informazioni su uno studente di serpeverde Un certo Dukan Ash Che nell'ultimo video avevo deciso di farlo Di chiamarlo Dukanossa Mi sembra Ragazzi vi ricordate Dukanossa Mi sembra Sì 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 Dukanossa Cosa vuoi sapere? Ho bisogno di parlargli Ho sentito dire che è da qualche parte nel castello E speravo che lei potesse dirmi dove Ma non abbiamo un incantesimo che lo possa Vabbè lasciamo stare È morto È stato lei a A ucciderlo? No Ci ha pensato da solo Ah bene si è suicidato Bene ma non benissimo Quindi è un fantasma anche lui? Difficile avere una conversazione con una persona morta che non lo sia Oh mamma mia come è sgarbato è signor barone Sa dove posso Trovarlo? Se ci tieni tanto Posso mandarti dritto dritto da lui Come fai a ucciderci? Sei un fantasma eh? Perché io penso che volevesse dire quello No la prego Io Ma non ti spaventare è morto Che vuoi che ti faccia? Cioè ti passa attraverso Mamma mia ti uccide sicuro eh? Non voglio farti del male Intendevo solo dire che posso indicarti i posti che frequenta di solito Forse se lei fosse meno scortese Forse Oh fantastico Grazie mille barone sanguinario Non capisco perché tutti la reputino così terribile E chi l'ha detto? Nessuno Nessuno Non l'ha detto nessuno Avevi detto tutti Io Ho paura Ma non avere paura Ragazzo Rocky È un cavolo di fantasma Che paura ti può fare? Poni la tua domanda E facciamola finita E questa vuol dire Energia Un sacco di energia Tre ore Tre ore di energia Molto molto male Vediamo un po' velocemente che succede con questa energia Nel mentre c'è un sacco di gente che mi sta scrivendo E ecco qua Così non la sentiremo più Sono felice che il barone sanguinario non si avvicini alla cura delle creature magiche Ma non credo che gli interessi Pensavo che saresti messo a piangere Balboa Noi siamo grandi Forse proverò ad andarmene in giro con gli abiti insanguinati Perché? Se vuoi saperlo Credo che tuo fratello abbia le mani sporche di sangue Oh mio dio Non volevo saperlo Mi chiedo se Gazza sia geloso delle catene del barone Può essere E credo che sia l'unico amico di Peavis in tutto il castello Ma non Non sai quello che lo tina bada? Vabbè Ragazzi io qui ora lo faccio velocemente Salto tutto E andiamo avanti Direi che il resto lo farò off camera come al solito Mamma mamma mau Eccoci qua Ce l'abbiamo fatta Ah quindi è l'unico amico che Peavis ha? Intendeva Duca Nossa non il barone Ok ok Forse dovrei guardare nelle stanze che non vengono usate spesso Sei un genio Rocky Mamma mia un genio La stanza dei manufatti La camera di mio fratello L'ufficio di Gazza Il bagno dei prefetti No il bagno dei prefetti credo che ci sia solo Mirtilla La mia amica Mirtilla Da quale mi converrà a cominciare? Barone sanguinario Non ho altro da dirti Scusi Non volevo darle noia Capisco Ma mi sarebbe davvero utile se Ne ho avuto abbastanza No signor barone La prego Cioè Che persona di mercole Cioè veramente antipatico Vado a prendere il bagno dei prefetti Allora Che palle Eri così spaventato Balboa Ma veramente Sta zitta Merdula Tra lui e il barone sanguinario Non corre buon sangue Un'altra battuta Capito? È la stessa battuta di prima Sì E funziona una volta sola Non più di una volta Comunque ragazzi In questo video vorrei ringraziare altre persone Che mi stanno aiutando veramente un sacco Con il mio canale Quindi ringrazio Ben Ringrazio Rocco Ringrazio Un sacco di gente in realtà Quindi ringrazio Ledry Ifrin Ringrazio Carmi Ringrazio Aspetta Laura Che mi perdo Jojen Che non ho mai capito come pronunciarlo Che mi sta odiando Anzi io in realtà lo odio Perché mi tratta male Ringrazio Cersullino anche E ringraziamo anche Altre gente Che boh Non lo so Vediamo Beh Sperando di non essermi dimenticato nessuno Ringrazio anche Banna Caffalatta E mentre saluto il mio gattino Direi che per oggi Il video finisce qua Perché siamo Agli sgoccioli Questa domani Sarà l'ultima puntata Di questo capitolo E chissà Se sarà uscito Il prossimo capitolo Io mi auguro di sì Perché questo video È pre-registrato Quindi ragazzi Direi che ci vediamo Nella prossima puntata Di Riporto Guast Mystery Vi ricordo di seguire Questo canale Vi ricordo di mettere Un sacco di piaccioni Al video Qui non ci possiamo Entrare E quindi Ragazzi A parte che abbiamo trovato subito Perché qua dice Incontra Duca Nasce Quindi insomma Penso che sia esattamente qua dentro Nel mentre prendo un po' di energia Ci vediamo Nella prossima puntata Di Harry Potter Guast Mystery Mi raccomando Di seguire questo canale Ci vediamo Come al solito Con un bellissimo Fatto Il Misfatto Grazie a tutti Grazie a tutti